Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi, venerdì 27 luglio. Quali sono i grandi temi dei giornali? Ve li diciamo subito. Intanto è sempre una notizia quando un presidente del Consiglio che si è insediato a Palazzo Chigi dal primo giugno e poi un premier come Conte rilascia un'intervista o una chiacchierata tra, come dice Franco sul Corriere della Sera, tra una bottiglia di acqua minerale e caffè. Sai che bel particolare e interessante? Ma comunque sia, lascia un'intervista in cui dice sostanzialmente che l'euro e la Nato non si discutono. Fantastico, non esiste che Tria lasci il governo. Un'intervista del tutto, come vi è chiaro, inutile. Soltanto, come posso dire, uno che sta in un deficit da metodone potrebbe leggersi questa intervista, insomma uno che sta proprio all'ultimo stadio della canna politica. Poi dopo vedi sul Corriere della Sera questa intervista fatta al presidente del Consiglio che già di per sé non stiamo parlando di, non so, Ricky Martin e trovi invece sul Repubblica e la Stampa, il gruppo concorrente al Corriere della Sera, la notizia. E la notizia di Repubblica e sulla Stampa chi riguarda Conte che è intervistato tra un caffè e un'acqua minerale da Massimo Franco con cui si apre il Corriere della Sera per dirvi i giornali. Cosa dice Repubblica? Di Maio e Conto vogliono bloccare la Torino-Lione. La TAV costerà 2 miliardi di euro. La stampa dice TAV, Conte cede al pressing dei grillini, non si farà. Cioè sostanzialmente il punto di equilibrio del governo, cioè lo sciccoso, come lo definisce un ritratto molto divertente oggi, Perna sulla verità, leggeteli sempre i ritratti di Perna, lo sciccoso Conte, come tutti quanti i meridionali dati nella piccola provincia pensano con il vestito fatto dal Sarto di migliorare la propria condizione sociale, insomma lo sciccoso, questo vale per tutti noi ovviamente, lo sciccoso, solo Marchionne se ne fregava del Sarto, lo sciccoso Conte, bene, lo sciccoso Conte avrebbe ceduto alle pressioni del Movimento 5 Stelle perché ci sarebbe un sondaggio interno dei 5 Stelle che dice che non vogliono i 5 Stelle, sai che è scoperta la TAV Torino-Lione. Questa è la notizia della giornata che tra l'altro Salvini pochi minuti fa sulle agenzie ha detto no no, noi la facciamo la TAV, la vogliamo fare e quindi la notizia c'è comunque perché se una parte non la vuole, del governo una parte la vuole, ci troviamo nella solita diciamo paradigma del credito dignità in cui qualcuno ci sta e qualcun altro no. Questa è la notizia ma sul Corriere della Sera sappiamo che Conte si prende un caffè e un'acqua minerale e non vuole uscire dall'euro, straordinario. Che altro c'è? Poi c'è un'intervista, a proposito di un'intervista di Renzi sul Sole 24 Ore che ci spiega varie cose sul decreto dignità, insomma sulle cose rivendicando il suo governo e le cagate che ha fatto l'attuale. Mentre sempre su Sole 24 Ore veniamo a scoprire che l'abolizione della TAV, che poi è soltanto un tubo che dovrebbe arrivare in Puglia, tubo che lo stesso Emiliano in intervista due giorni fa sulla stampa diceva bisogna farlo sul messaggero, beh, costerebbe l'Italia 20 miliardi di euro. Quando pensate a quello che fa questo governo nel non fare certe cose, pensate a quello che poi ci viene a costare 20 miliardi. Ovviamente l'Azerbaijan dice che saranno 40-70 in termini di penali, cause, costi di maggiore approvvigionamento. Io non lo so, ma comunque sia che noi si debba pagare 20 miliardi perché 10 persone hanno rotto le balle in Puglia perché non vogliono un tubo di 8 chilometri, è una roba che in un paese normale ti viene il sangue al cervello. Noi siamo ancora qua a discuterne. Diciamo che l'altro tema di giornata oggi fondamentale è quello di Marchionne. La morte di Marchionne è passata in secondo piano tutta la questione che riguarda i conti della Fiat, il futuro, il manager, i sindacati. La vera cosa che interessa a tutti, parliamoci chiaro, è come è morto. Melena Rizzoli oggi dice che si tratta di un carcinoma, quindi non di un tumore polmoni. La Rizzoli ha questo lato medico che sempre racconta sul giornale di Feltri. Ma la cosa fondamentale che è venuta ieri è che la clinica svizzera ha detto che era malato già da un anno mentre la FCA in una dichiarazione ufficiale ha detto che lei non era a conoscenza della malattia di Marchionne. La cosa ragazzi è molto grave. Perché il grande manager di cui ho parlato tanto bene, di cui vi abbiamo detto tutte le cose, se avesse veramente nascosto una malattia terminale per un anno la FCA, cioè al suo datore di lavoro, sarebbe una cosa piuttosto strana. Anche perché pochi giorni fa, pochi giorni prima di morire, lo stesso Marchionne ha detto che avrebbe voluto completare il suo piano industriale. Quindi fino ad aprile del 2019. Insomma, è molto strano questo dibattito. C'è chi dice, qualche giornale lo scrive esplicitamente, che la clinica ha fatto questa dichiarazione per cercare di evitare possibili cause legali su sue malpratiche nella gestione di una malattia e quindi sostanzialmente ci sarebbe stato un errore sanitario. Boh, molto bello l'intervista a Baravalle, che è stato uno degli uomini con Altavilla, i bracci destro, gli assistenti più formidabili di Marchionne. Oggi è guida alla Lavazza, molto interessante la sua intervista. Come intervista Giulio Giorello, fatto da Mascheroni, in cui l'ultima domanda di Mascheroni, molto bella l'intervista, gli ha chiesto, ma ha salvato la Fiat, ma non è riuscito a salvare se stesso. Giorello, filosofo, dice, ha mai conosciuto qualcuno che è riuscito a salvare se stesso? Insomma, sulla fine di questo ragionamento, l'intervista ve la consiglio, come vi sconsiglio nettamente, come spesso avviene, di leggere le banalità di Severnini. C'era bisogno di qualcuno che oggi dicesse la banalità che in una settimana tutti quanti noi a casa, nella propria riflessione, nel momento di maggiore stanchezza, ha fatto. Ma la usiamo bene questa vita? Vabbè, insomma, leggetevi Giorello e lasciate perdere i Severnini. Questi sono consigli gratuiti che do ai commensali della zuppa, così non perdete più tempo sui giornali. Anche perché potete fare un'attività molto più interessante, cioè quella di andare come dei coglioni, come Gianfranco Fini, come si è autodefinito lui, davanti al negozio dell'Apple Store a Milano. La fila per l'Apple Store. Queste cose mi fanno impazzire. Io sto parlando da un device Apple, perché questo è un iPad, sono un grande fan di questa tecnologia, utilizzo anche tecnologie Android, ma l'idea che ci sia della gente che si mette in fila per vedere un negozio che è una cascata nel posto più bello del mondo, che è l'Italia, che ha milioni di cose da vedere, mi fa venire veramente l'idea che capisco perché poi oggi la notizia principale sia che abbiamo venduto l'aereo di Stato di Renzi. Perché quelli lì sono quell'altra roba lì. Quindi l'idea che oggi ci siano milioni di persone che godono dell'apertura di un negozio, che è un negozio con una cascata al centro di Milano, che sarà fichissimo, sarà fatto bene, mi piacerà, sarà bello, sono belli i loro oggetti. Ma la fila? Col caldo di ieri, 35 gradi ieri a Milano, tu ti metti in fila per vedere l'apertura del negozio dell'Apple. Ci passi col motorino due minuti, se sei proprio curioso, lo vedi, bello, bello e te ne vai. Non fai la fila per entrare e non comprare nulla. Io la trovo una cosa straordinaria, ne parla oggi il Corriere della Sera. Nel frantempo Facebook perde 125 miliardi di dollari mentre gli italiani stavano lì a fare la fila, cioè la perdita maggiore in borsa in termini assoluti di capitalizzazione per rischi privacy e minore crescita. Ricordatevi che stiamo parlando di un'azienda, cioè Facebook, che continua a fatturare una cosa mostruosa e a guadagnare, come nell'ultimo trimestre, 5 miliardi di euro al trimestre. Cioè le aziende italiane non valgono tutte 5 miliardi, loro ogni trimestre guadagnano 5 miliardi. Moltiplicato per 4, malcontati, sono 20 miliardi di dollari guadagnati da un'azienda con i nostri dati e con la zuppa di porro che in minima parte vi contribuisce. Beh, la storia straordinaria la mette insieme, secondo me, in maniera intelligente oggi Sallusti, in cui dice vendiamo l'aereo di Renzi, ma nel fattempo si fanno le foto, 4 ministri nell'angara a vendere l'aereo di Nestri, una minchiata, forse averlo comprato, ma certamente venderlo non porta, come dice il fatto, neanche quei risparmi che ha annunciato Toninelli, ha detto 108, invece saranno 60 perché il leasing si paga e gli aerei servono, gli aerei di Stato. Non si va con Ryanair in giro. Chiaro? Un presidente del Consiglio italiano, lo stesso Conte, lo stesso Salvini, lo stesso Di Maio, lo voglio su un aereo di Stato. Poi, che questo sia stato preso in maniera inutile può anche darsi, e non lo contesto, e che sia stata fatta una cosa alla grandeur può anche darsi, ma l'idea che si goda con tre ministri che stanno lì a vendere l'aereo di Stato, forse più che bye bye aereo di Stato, più che una grande politica di un grande governo, questa mi sembra, come dice giustamente in un fondo Sallusti oggi, un modo per evitare che si parli della vera cosa di cui si stanno occupando i nostri ministri, quelli stessi che stanno lì a fare bye bye all'aereo di Stato, cioè stanno facendo bye bye agli amministratori delegati alle ferrovie dello Stato, alla Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Autority, della RAI. Detto questo, oggi leggo sui giornali che il PD e Forza Italia hanno tirato fuori dal cilindro una grande idea per la RAI. Stiamo a sentire un po' voi. Chi pensa la sinistra e Forza Italia, la sinistra residua e la destra residua, Forza Italia, morti che camminano, morti di sonno, chi pensano di nominare ai vertici della RAI? Beh, la sinistra pensa evidentemente l'Annunziata, bella scelta, complimenti, siete veramente dei geni che era già passata dall'altra parte. E Forza Italia, Minoli, 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 grandissimi professionisti, tutti quanti, a parte forse l'Annunziata che non scrive l'italiano, diciamo, di Calvino. Ma, insomma, queste sono le scelte di Forza Italia e del PD per le nomine RAI. Io le trovo straordinarie! Cioè, questi dove vogliono andare? Alla fine poi ti guardi dietro, vedi Salvini, dici, vabbè, forse meglio rispetto a questi. Se questa è l'opposizione, andiamo tutti a guardare il negozio dell'Apple Store. Sul decreto dignità, però, veramente, ritorniamo al discorso di prima. Cioè, al discorso di prima, è che ieri sono riusciti ad aumentare, addirittura, con un emendamento del PD, i costi per liquidare coloro che sono stati licenziati nella fase di conciliazione, che passa da due diciotto mesi a treventisette. Cioè, roba per cui licenziare in Italia costerà sempre più caro. Ovviamente questa posizione piace molto alla sinistra, piace molto al Movimento 5 Stelle. Che dire degli imprenditori, delle partite IVA, di tutti quelli che invece nel Veneto su questa roba qui hanno fatto, forse, la fortuna della Lega. Beh, c'è un ubriaco in Veneto che oggi, un ubriaco, lo dico con grande rispetto, che fa il segretario della Lega Veneta. Si chiama Dare, lo vorrei spesso ospite in televisione da me. Ciao Federica! Lo vorrei spesso ospite da me perché l'ubriaco Veneto, che cosa ci dice? Perché deve essere uno simpatico, con un baffo, lo vedo oggi intervistato al Corriere della Sera, non accettiamo... cos'è che ha detto lui? Non accettiamo lezioni, dice il segretario Veneto della Lega, da coloro che hanno delocalizzato. Beh, vabbè, fantastico, ma sei uno di sinistra, sei uno del Movimento 5 Stelle o sei il segretario della Lega? Cioè, tu stai dicendo che gli imprenditori veneti hanno delocalizzato e quindi non accetti lezioni da loro e continui, gli imprenditori sono votati al dio denaro. E questo lo sta dicendo il rappresentante della Lega, della Lega Veneta, quella che con Zaia governa quella regione da anni, 600.000 imprese, votate al dio denaro, disoccupazione al 4%, il locomotore imprenditoriale dell'Italia, votate al dio denaro. A che devono essere votati? Al dio leghista? Al dio po? Devono andare a fare l'ampollina con te, baffone? Beh, io non lo so, vedi poi il governatore della Lega, Zaia, che invece in un'intervista da qualche altra parte in un giornale italiano dice una cosa un po' diversa dal segretario leghista, dice questo decreto di dignità è una cagata, dobbiamo cambiarla, gli imprenditori legittimamente non lo vogliono. Anche se fa capire una cosa, e qui parliamoci chiaro ragazzi, mettiamoci bene in testa cosa sta succedendo, la Lega governa con il Movimento 5 Stelle, governare non è semplice. Dunque, sul decreto di dignità, che è una bandierina, così come l'immigrazione lo è stato per la Lega, questa merda del decreto di dignità, la deve subire la Lega, perché deve dare un contentino al Movimento 5 Stelle, suo alleato di governo, e per farlo purtroppo deve scontentare parte del suo elettorato. Tutto ciò un po' si capisce dall'intervista di Zaia, che vi raccomando. Ultima cosa, mi spiace molto che hanno fatto fuori dalla radio del Sole 24 Ore Luca Telese, col quale ovviamente mi dividono tante idee, tra cui anche il giudizio su Marchionne in queste ore, ma col quale ho condotto tanti programmi televisivi, fatto fuori perché Maria Latella. Porro, ma continuano a capire se ci sei o ci fai? No, ci sono, ci sono proprio, stai tranquillo, io sono così, non è che ci faccio, ci sono, ci sono. Bene, hanno fatto fuori il mio amico Luca Telese, mi dispiace molto, io un'idea ce l'avrei. Facciamo Luca Telese, presidente della RAI, al posto di Minoli e al posto dell'annunziata. Cioè, volete mettere l'annunziata che ha già fatto il presidente della RAI, cari amici di sinistra? Facciamo Telese, abbiate il coraggio di cambiare, abbiate il coraggio di prendere il più antirenziano degli uomini di sinistra, Telese. Insomma, se avete le palle, invece di trovare questo establishment romano, che si vedono da settembrini, che si conoscono da vent'anni, che si sono spartiti stipendi e collaborazioni, fate rivoluzionari. Volete un presidente della RAI? Sinistra? Prendete Luca Telese. Ecco, questo sarebbe forse, non so se siete un giornalista, diciamo, che ha voglia ancora di scrivere, accetterebbe mai. Prendete Luca Telese. Va bene, un saluto a voi, nella follia dell'ultima mia proposta, vi do appuntamento domani, come sempre con la zuppa, e se non avete tempo da perdere, andate al negozio Apple di Milano, fatevi quattro ore di fila, state sotto 35 gradi al sole, e poi dopo non comprate assolutamente nulla e tornate a casa tutti contenti e dite che bello, ho visto il negozio della Apple, non avete visto il cenacolo, non avete visto un museo, non avete visto una chiesa, ma avete visto il negozio della Apple. E magari, mentre state guardando il negozio dell'Apple, state guardando Facebook, i ministri contenti di aver venduto l'aereo di Stato. Beh, con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani. Ciao!